Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre il primo giugno 2012, sono ora le 10.30. Vedete il titolo della trasmissione? Ignazio Larussa e il 2 giugno, cioè la festa del 2 giugno 2012. Io ho visto su Youtube il video intitolato Piazza Pulita, la 7 attualità, di ieri, 31 maggio 2012. Su Youtube c'è un video intitolato Piazza Pulita, la 7 attualità, del 31 maggio 2012. Oggi è il giorno successivo, è il primo giugno. È una lunga trasmissione, nel posto della quale interviene anche l'ex ministro della difesa, Ignazio Larussa, relativamente alla parata militare del 2 giugno. Ora, non ci sarebbe nulla da dire, quasi nulla da dire sulla parata militare del 2 giugno 2012. Però il destino ha voluto che tale parata del 2 giugno 2012 abbia a compiersi dopo il terribile terremoto che ha colpito un'ampia zona della Romagna, dell'Emilia. e anche del Basso Mantovano. Per cui sul web c'è stato un coro di voci che dicevano che la parata non si doveva svolgere. E c'è stata una piccola polemica tra Ignazio Larussa e un altro dei presenti. Ignazio Larussa ha replicato che magari questo coro di no non ci sarebbe stato se il terremoto, anziché verificarsi il 20 maggio 2012, se fosse verificato poniamo il 20 aprile 2012 perché dopo ci sarebbe stato il 25 aprile cioè la festa della liberazione. Ora, quello che ha detto Ignazio Larussa questa argomentazione è una verità però vorrei introdurre il filosofo Leibniz il quale distingueva tra verità di ragione e verità di fatto. La verità è pronunciata la verità o l'opinione quello che ha detto Ignazio Larussa per giustificare la parata militare del 2 giugno 2012 cioè di domani sarebbe una verità di ragione non è una verità di fatto vi faccio un piccolo esempio molto banale la verità di fatto o verità logica la verità di ragione o verità logica è il pensare che quando un cacciatore va a caccia e che mira per colpire un passeraceo lo deve prendere perché lui ha mirato per prenderlo verità di ragione verità logica però ciò avviene invece nel 50% dei casi cioè questa verità di ragione non è quasi mai una verità di fatto quindi è incappato incappato in questo contrasto l'ex ministro della difesa Ignazio Larussa per dirla più brevemente più semplicemente la sua è stata una dichiarazione inopportuna inopportuna voi sapete bene che Ignazio Larussa è un tipo sanguigno e a tale riguardo noi tutti esseri umani nasciamo con un certo temperamento poi nel corso della prima infanzia seconda infanzia terza infanzia attraverso gli intenti ambientali acquistiamo un carattere però il processo dovrebbe continuare dal temperamento nativo al carattere acquisito arrivare alla personalità e c'è una triade una triade temperamento carattere personalità che ricorda un po' la triade egliana di tesi antitesi e sintesi indubbiamente Ignazio Larussa è un tipo di carattere cioè di temperamento un tipo di temperamento è anche un tipo di carattere però non risulta detto senza offesa non risulta essere pervenuto alla fase superiore che è quella di essere una personalità egli è sempre dibattuto tra il suo carattere sanguigno sanguigno il suo perdono temperamento sanguigno e il suo carattere diciamo così che dipende dall'ambiente egli è cresciuto in certi ambienti e che lo hanno condizionato ad avere un carattere come si dice autoritario però manca ma manca quasi a tutti la terza fase quella di pervenire alla personalità la personalità sovrasta e domina sia il temperamento che il carattere ora avrebbe avuto avrebbe avuto bisogno Ignazio Larussa di dire una cosa semplicissima ma si la festa del 2 giugno la festeggiamo alla grande anche senza la parata militare si espone la bandiera italiana su tutti i palazzi pubblici quindi i palazzi del governo dei ministeri del Parlamento delle regioni delle province dei comuni e già in questo momento di calamità si poteva festeggiare il 2 giugno senza la parata militare perché c'è un grosso contrasto tra una parata militare a Roma e la grande sofferenza di una bella parte d'Italia che contribuisce fortemente al PIL nazionale mi pare che si parli che quella zona coinvolta nel terremoto contribuisce al PIL nazionale per l'1% e se si fanno i conti relativi all'intero nostro paese si vede che questo 1% è una percentuale molto forte va bene cari amici vi ho fatto la distinzione tra verità di ragione e verità di fatto del Leibniz vi ho fatto un po' di psicologia cioè vi ho dato i concetti di temperamento carattere personalità e diciamo mi sono messo in sintonia con tutte le voci del web che auspicavano la scomparo per quest'anno della parata la festa si può fare anche senza parata va bene cari amici sarebbe stata una prova di grande sapienza politica se Ignazio Larussa avesse detto sì celebreremo il 2 giugno esponendo la bandiera questa volta la lasciamo perdere la parata egli non avrebbe abdicato alle voci del web ma no si sarebbe messo in sintonia con la situazione reale di questi giorni grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti